presentazione del riva samba siamo qua in compagnia di adriano pastorino presidente da diversi anni ma è 30 anni e passa appunto del riva samba la squadra come è stata assemblata secondo te secondo me è stata stata messa giù una bella squadra è stato fatto un bel lavoro però da lì a dire che si vince il campionato ho fatto un'altra cosa c'è tante squadre attrezzate riva samba rinnovato tanti giocatori nuovi qualche d'uno è rimasto e nuovo allenatore nuovo allenatore abbiamo preso e ora vediamo speriamo che faccia bene che sia l'anno giusto per far divertire un po' il nostro pubblico anche siamo in compagnia di Giacomo Nicolini sei soddisfatto intanto ti chiedo di questa tua esperienza questo inizio di esperienza come direttore sportivo ma ti direi che logicamente lasciare il calcio è stato un po' una cosa difficile però con gli impegni di lavoro di famiglia e altre cose la stanchezza la sera arrivavo al campo veramente estremato quindi mi è stata proposta sto incarico qua da presidente io l'ho ora l'ho accettato con entusiasmo e con passione quindi per ora bene molto bene sono molto contento per quanto riguarda il mercato direi che penso di aver fatto una squadra abbastanza competitiva anche quest'anno abbiamo cercato come l'anno scorso di allestire una buona squadra sicuramente di livello per potersi giocare il campionato abbiamo cambiato completamente lo staff tecnico e l'obiettivo rimane come quello dell'anno scorso di riuscire a vincere il campionato il ruolo da favorito c'è anche quest'anno soprattutto quest'anno ma sicuramente è stata messa su una squadra una rosa importante io ritengo che se facciamo le cose nella maniera giusta possiamo diventare protagonisti però le partite vanno giocate vanno vinte però da parte nostra sicuramente c'è la consapevolezza di avere in mano sicuramente una squadra competitiva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti